Anche nel quartiere di Rosciano, come ovunque ormai purtroppo, a causa della globalizzazione ed omologazione di occasioni che nulla hanno a che vedere con la nostra tradizione e radice culturale, è che già va la slegata affermazione dolcetto scherzetto. Ma più che altro, in molti casi, è stato scherzetto, anzi dispetto più che altro, e per finire anche nel danneggiamento. Prese di mira, come sempre, e questa ormai è un'amara consuetudine, le buchette delle lettere dove un insano gusto e distorta interpretazione del divertimento ha fatto sì che fossero fatte saltare letteralmente per aria con diversi petardi. Allora, insomma, una brutta sorpresa in queste ore. Bruttissima, tra l'altro neanche la prima, quindi questa conta tre. Alla fine uno perde anche la pazienza, però bisogna sempre tenere conto che facciamo un riferimento dei ragazzi. I cari signori genitori che danno i soldini ai propri bambini, poi devono andare a vedere cosa ne fanno, perché se vanno a comprare oggetti che causano questi danni, forse è meglio che gli stiano un pochino più dietro. Qui da un po' di tempo a questa parte si vive sempre meno. Ma questo non è tutto, dato che la vicinanza ed una facile via di fuga ha deciso le sorti della buchetta della posta del malcapitato, ha contemporaneamente fatto sì che la stessa, una zona franca da tempo ostaggio di ragazzacci impenitenti, venisse utilizzata a loro piacimento. Sappiamo benissimo che sono sempre si stessi, io mi do da fare per tenere in ordine, ma sono sempre stessi, dici qualcosa e ti rispondo male, ma tu? Chi sei tu? Poi anche, ma tu prendi soldi dal comune, guarda io non prendo niente, io ci metto le tasche mie del mio portafoglio, la mia pensione per tenere in ordine pulito. Ho trovato 5 cucchiaini dello stesso servizio, più di questo non si può fare, il prete gli ha gridati, dietro alla chiesa non ci sono più, altri ieri li abbiamo trovati davanti alla banchina della chiesa. Di notte qui è sempre illuminato, ma è sempre pericoloso, vogliamo fare un pochino a stare con i piedi su due belle staffe.